Procuratore, l'incontro con Mattarella si è parlato anche di inchiesta della ricostruzione, magari di creare anche delle norme più severe in questo senso? Ma se ne è parlato ovviamente pubblicamente, questo è stato l'incontro. Io l'ho chiesta, ho rinnovato quella richiesta, poi non è neanche una richiesta, è un desiderio, un'aspirazione che ci sia una norma che cristallizzi quantomeno questa posizione dell'amministratore che noi abbiamo anticipato, alla quale noi siamo arrivati per via di interpretazione giuridica ma certamente se ci fosse una legge e questa legge disciplinasse ancora più severamente, più precisamente di quanto non sia già adesso e il sistema degli appalti, dei subappalti, delle ditte, certamente sarebbe un grosso argine nei confronti dei rischi di legalità. Sono venute alla luce tante inchieste, segno che comunque anche la Procura sta facendo un ottimo lavoro. Noi ci sforziamo di fare il nostro lavoro al meglio, le inchieste ce ne sono, ce ne sono state ma le potete contare voi. Direttamente perché sono tutte pubbliche, sono ormai tutte venute alla luce, tranne quelle che stiamo facendo ancora.